Salve a tutti, il Comune di Forlì ha deciso di aggiungere risorse proprie insieme a quelle erogate dal Governo per quanto riguarda il sostegno economico dei buoni spesa che verranno erogati nel periodo netalistico dal Comune per dare un aiuto alle famiglie per cui permangono situazioni di difficoltà legate ai tempi difficili alla pandemia. In questi termini sarà possibile presentare domanda dei buoni spesa attraverso il sito del Comune da mercoledì 9 dicembre a domenica 13 dicembre appunto attraverso il sito. Vi sarà un'ulteriore possibilità per chi non ha la disponibilità di un collegamento internet di effettuare la domanda a livello telefonico quindi attraverso una telefonata riceverà tutte le informazioni necessarie per poter procedere. Speriamo con questa misura di dare un aiuto a chi ha una condizione di difficoltà per passare delle festività assolutamente più serene. Auguri a tutti!